Domanda alle 11.30. I deputati di Sinistra Italiana saranno sotto le finestre del Premier Gentiloni a Palazzo Chigi per ricordare al Premier che si è dimenticato dei referendum. Si è dimenticato di un milione di italiane e italiani che chiedono di votare contro la precarietà, cancellando i voucher e cancellando la mancata responsabilità sugli appalti. Noi pensiamo che Gentiloni debba decidere il referendum, lo deve fare ormai da 40 giorni e in grave ritardo. Gli italiani vogliono votare per dire no alla precarietà con due sì in quei referendum. Noi siamo al loro fianco, noi sosteniamo questi referendum e pensiamo che quando sentiamo dire che si può utilizzare un decreto per impedire il referendum, diffidiamo il governo. Perché che i decreti, procedure d'urgenza vengono utilizzati per impedire il voto degli italiani è un precedente grave che va impedito.